Si è concluso questa domenica nella cornice di Camona, Monno, con le premiazioni del concorso per video brevi segni in corto 2022, il weekend dedicato al patrimonio alimentare alpino. Il concorso internazionale in memoria di Perfausto Bettoni, ispiratore e infaticabile animatore del Borgo degli Artisti, per l'edizione 2022 ha avuto come tema centrale il fare cibo nelle Alpi, un modo semplice per rappresentare la ricchezza e la complessità della vita delle comunità alpine. Quattro le categorie in gara, altri tanti i vincitori. Nei giovani il primo posto a Luca Robotti, con la sua creazione I Lader d'Erba, per la categoria Cortissimi premiata Flavia Ferraguti per la sua capacità di narrare il territorio attraverso le immagini e i sensi. Nella sezione documentari la giuria è invece premiato Terra Fragile di Fabrizio Zanotti, che dal legame tra spirito e terra ha saputo riscoprire e raccontare il valore del lavoro e della vita bucolica. Infine, nella categoria Cortostorie, il premio è stato dato a Galaxia di Arianna Calaiori, per il connubio trasperimentale surreale. Galaxias cerca di riassumere in dieci minuti quello che è la produzione del formaggio in modo poetico e onirico, alternando le fasi di lavorazione, le mani, le persone che lavorano dietro a questo progetto. Quindi cercare un connubio tra la magia delle Alpi, che è quindi questo contesto montano, con la magia e il gusto che ha il formaggio. Di cortometraggi che sono venuti non solo da Brescia e provincia, ma anche da tutto il nord Italia e anche dall'estero. Importante la partecipazione di tanti giovani, tanti under, sono stati premiati in questa giornata e giovanissimi che hanno riscoperto il territorio, la loro maniera, con i segni della comunicazione, quindi reel, cortometraggi e brevi documentari. Ringrazio chi si è speso per portare qui a Monno questo concorso cinematografico. È una forma d'arte che non spesso si ha l'opportunità di ospitare. Il concorso ha riscosso anche per questa edizione un grande successo sul territorio Camuno, attirando giovani e giovanissimi. Tra questi spicca Alexia Merlate, ventenne altoatesina, la più giovane tra tutti i partecipanti. Ho scelto di iscrivermi perché Tito Speck è il mazo del padre di una mia amica, quindi mi sono sentita ispirata e soprattutto perché il tema principale è fare cibo nell'Alpi, quindi il mazo mi sembrava adeguato riguardo a questo tema. Il legame al territorio e al mondo cinematografico non si conclude qui, è previsto infatti per il weekend del 26-27 novembre un workshop di produzione audiovisiva al Palazzo della Cultura di Breno, curato dalla docenza del DAMS dell'Università Cattolica di Brescia.